no ma non hai capito io mi sono svegliato le 17.30 lo sapete che è successo va giù mi sono messo sul tiktok si sono fatte le 8.10 tu what ma come cazzo è possibile dio cane come cazzo è possibile ma ma è più ma come cazzo è possibile non passa il tempo passa il tempo se infatti quando quando state vicino alla fermata dell'autobus accendetevi tiktok vai giù e il pullman subito passa